Una familiarità con la città di Nuoro, nata grazie all'amore per due grandi nuoresi, il poeta Sebastiano Sata e il giurista Salvatore Sata, autore di testi fondamentali per il diritto processuale civile, ma anche del romanzo Il giorno del giudizio. E' quella che ha raccontato davanti agli studenti del polo universitario nuorese il professor Paolo Grassi, presidente della Corte Costituzionale a Nuoro per prendere parte al convegno Le terre civiche e le politiche del territorio organizzato dal Centro Studi della Sardegna sulle terre civiche di Nuoro, dal Consorzio Universitario e dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Una materia che il presidente Grossi conosce benissimo perché è uno dei massimi esperti italiani, visto che proprio grazie al suo saggio nel 1977 contribuì a invertire una tendenza che stava portando alla liquidazione della proprietà agraria collettiva. Ora anche grazie alla giurisprudenza della Corte Costituzionale tutti ne riconoscono non solo l'importanza a livello sociale ed economico, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente e che le comunità, grazie agli usi civici, hanno fatto. La quarta carica dello Stato è stata ricevuta dal sindaco Andrea So di Municipio, dal presidente del Consiglio Fabrizio Becco e dalle autorità civili e militari della provincia. La sua figura professionale e umana è stata introdotta da Francesco Nuvoli, grande esperto di economia agraria. Nel suo intervento il presidente Grossi, giudice costituzionale da 2009, presidente da due anni, ha raccontato le motivazioni che lo legano a Nuoro con riferimento a Sebastiano e Salvatore Sata, e ha tenuto una lezione magistralis sulla proprietà agraria collettiva, sulla sua importanza e sulle battaglie fate per ottenerne il riconoscimento. Il commissario del Consorzio Universitario Fabrizio Muredo ha portato il saluto degli studenti, i nuresi e alcuni impegnati all'estero e che hanno inviato un video. L'incontro si è concluso con la consegna da parte del sindaco Sud al presidente Grossi di una targa in cui si ringrazia il presidente alla consulta per il suo prezioso contributo alla cura dei beni collettivi.